Novenna al Vino di misericordia insegnata da Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Primo giorno, vera di santo. Meditare sul Gesù, sul Ritifizio e sul valore dell'anime. Parole del nostro Signore Gesù Cristo, oggi portami l'umanità intera, specialmente tutti i peccatori. Immergi nel cielo della mia misericordia, così tu dolcirai la mia amarezza per la perdita delle anime. Chiediamo misericordia per l'umanità intera. Misericordioso Gesù, poiché la tua prerogativa è di avere compassione di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che nutriamo nella tua infinita misericordia. Ricevi tutti nel tuo cuore, è compassionevole non respingere mai nessuno. Te lo chiediamo per l'amore che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a voi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, volgi il tuo sguardo e misericordia sull'umanità intera, specialmente sui peccatori, la cui unica speranza è il tuo cuore pietoso. Per la sua dolorosa passione dimostra la tua misericordia, affinché noi possiamo insieme eternamente rodare la tua potenza. Amen. Coroncina alla Divina Misericordia Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, tu sei appena morto, e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero, riversati su di noi. O sangue e acqua che scatulite dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo delettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo direttissimo Figlio, il Signor nostro Gesù Cristo, in ispirazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi del mondo intero. Dio, Padre misericordioso, che ha rilato il Tuo omore nel Figlio Tuo Gesù Cristo e l'ha riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo, di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, rissana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi del mondo intero. Amen Lo sangue e acqua che scatulisti dal cuore di Gesù, come sorgenti misericordia per noi, confido in Te. Gesù, confido in Te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Coroncina alla Divina misericordia Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Gesù, Tu sei appena morto, è già una sorgente di vita sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero, riversati su di noi. O sangue e acqua che scatulite dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno le suscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vidi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la Renata di Dio Padre onnipotente.